Mezzanotte sarà cadenzata e stabilita dall'orologio di piazza grande che dal 1552 è lì, quindi il nuovo anno entrerà nella città di Arezzo attraverso il suono dell'orologio di piazza grande del palazzo di fraternità. Un capodanno unico, quello che potranno vivere tutti coloro che sceglieranno di trascorrerlo in piazza grande ad Arezzo con i giochi di luce che illumineranno il palazzo di fraternità e le loggie vasariane in uno scenario dunque suggestivo e che attraversa secoli di storia. Il 2020 sarà accolto così, con la musica prima di Enzo Scartoni e poi due super ospiti. Il programma è ricchissimo, dalle 20 con Maestro Scartoni che è qui a Cattolome a fare la mezzanotte, poi ci saranno The Shakers che è un gruppo rock and roll anni 50, Elia Perrone e il DJ set e poi dopo la mezzanotte due ospiti più attesi, Frankie Energy con il DJ set, i suoi pezzi più famosi del suo repertorio e poi Ivrea Tronic che è un collettivo di DJ che arrivano da Ivrea per far ballare i più giovani fino alle 2. Sono contento che anche quest'anno sia stato interpellato, ci metterà tutto l'impegno, il massimo impegno che fa divertire tutte le famiglie che saranno in piazza. Piazza Grande, ci sono molte accortezze dal punto di vista della sicurezza ma anche molte premure rispetto a un pubblico che deve venire alla festa. Il Palazzo di Fraternita accoglierà anche uno spazio giochi per i bambini e sarà possibile salire sulla terrazza panoramica, niente botti però saranno vietatissimi. Sì, ci sarà un'ordinanza credo oggi o al limite lunedì che li vieterà, quindi non potranno entrare in piazza come anche il vetro. Ci sarà in parte sui ristoranti delle loggie un piccolo ridimensionamento dei tavoli fuori per poter gestire anche l'esodo delle persone in piazza. Però dal punto di vista della sicurezza è tutto come le altre volte, quindi con controlli di accessi ma nella normalità della festa. Grazie.